Abbiamo cercato veramente di selezionare gli obiettivi, una piattaforma su 5 punti. È chiaro che il cuore del problema per noi è dare un senso alle affermazioni che per esempio fa anche il Presidente sulla necessità di creare posti di lavoro. Lui ha annunciato 100.000 posti di lavoro, va bene se vuol dire che si è sensibile a questo obiettivo, però se non diventa un piano organizzato resta una annunciazione. Noi vogliamo un confronto proprio su questo. Al servizio dell'occupazione la chiusura positiva della programmazione vecchia, l'apertura di quella nuova e quindi gli investimenti che sono fondamentali per fare occupazione. Poi le riforme, in particolare quelle della pubblica amministrazione, perché se la macchina non funziona non si spendono bene le risorse e poi quelle indispensabili del socio sanitario e del trasporto. Questa regione ha ormai una situazione sul lavoro gravissima. Abbiamo avuto nell'ultimo anno 10.000 occupati in meno. Voglio ricordare che ci sono 17.000 persone in cassa integrazione a zero ore, quindi è come se noi avessimo perso la somma di questi due dati, quindi la situazione è molto grave, gravissima. Stiamo scivolando rapidamente di nuovo nel mezzogiorno. Siamo una regione che ha grandi difficoltà per quanto riguarda tutta la questione del bilancio regionale, dei fondi europei e dei fondi FAS e quindi non si riesce a fare politica economica. Noi siamo molto preoccupati, vorremmo che ci fosse un salto di responsabilità da parte di tutti per affrontare appunto questa emergenza. Spina, c'è anche una problematica che riguarda le risorse da mettere in campo? Il vero problema è che la regione Abruzzo sono le risorse, che sono molto minori di quelli che avevamo nella programmazione precedente. È previsto che nella nuova disposizione che la regione deve cofinanziare i programmi europei e il bilancio regionale non ha le risorse per poterlo fare. Dobbiamo assolutamente attrezzarci. Noi alla regione abbiamo detto di accelerare sul versante delle riforme interne. Dobbiamo trovare economie che ci permettono di poter finanziare i programmi di sviluppo e soprattutto dobbiamo attrezzarsi per avere i fondi nazionali e quelli europei, quelli diretti. Cioè dobbiamo avere una regione Abruzzo che sia capace di far muovere la sua economia per accedere con programmazione intelligente di alto livello ai fondi che l'Europa dà direttamente e che non passano tramite le regioni. Ma non dobbiamo fare come abbiamo fatto sui programmi nuovi del POR dove abbiamo avuto nella comunità europea 192 osservazioni. Non possiamo sempre essere gli ultimi nella programmazione. Grazie a tutti.